Oggi si festeggia la giornata internazionale della donna, un momento per ricordare le conquiste sociali e politiche delle donne e un'occasione per rafforzare la lotta contro le discriminazioni e le violenze, per riflettere sui passi ancora da compiere. La festa della donna non nasce, come tutti credono, in memoria degli operai e morte nel rogo di una fabbrica di New York nel 1908. La sua istituzione si può far risalire al 28 febbraio del 1909, quando negli Stati Uniti il Partito Socialista americano organizzò una grande manifestazione in favore del diritto delle donne al voto. Il tema era già stato a lungo discusso negli anni precedenti. Alle manifestazioni per il suffragio universale si unirono presso altre rimenticazioni dei diritti femminili. La data dell'8 marzo è entrata per la prima volta nella storia della festa della donna nel 1917, quando le donne di San Pietroburgo scesero in piazza per chiedere la fine della guerra, dando così vita alla rivoluzione russa di febbraio. Fu questo evento a cui si ispirarono le delegate della seconda conferenza internazionale delle donne comuniste a Mosca, quando scelsero l'8 marzo come data di in cui istituire la giornata internazionale dell'operaia. In Italia la festa delle donne iniziò ad essere celebrata nel 1922 con la stessa connotazione politica e di rivendicazione sociale. L'iniziativa prese forza nel 1945, quando l'Unione Donne in Italia celebrò la giornata della donna nelle zone dell'Italia già liberate dal fascismo. Dopo il secondo dopoguerra, la giornata è diventata un'occasione, un momento simbolico di rivendicazione dei diritti femminili e della difesa delle conquiste delle donne. Grazie. Grazie.